E' già partita dal punto di vista di prendere le posizioni, la prima fila è già costruita, avete visto come si fa a prendere la posizione? Guardate come si fa a prendere la posizione, si corre, forse a me qui. Guardate come si fa a prendere la posizione, la prima fila è già costruita,